Sentite che sound, altro che l'RS, sta qua batte anche un K Ok ragazzi, siamo qui col cialetto Come vedete non sono attrezzato, non ho il giubbotto potente Non ho veramente proprio niente di potente Sì perché ho guardato il cialetto e ho detto Perché non prenderlo per fare qualcosa? Mamma mia che casino che fa Marmita Malossi che sono veramente molto soddisfatto Ha un sound bestiale e ai vecchi tempi Si parla di quando io andavo ancora via in cialo Mi faceva circa gli 80-85 all'ora che per un cialo è veramente eccezionale Non possiamo ragazzi andare a collo perché sto cialo qui l'ho scaldonato Esattamente due... no, 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 cosa dico? Sì due estati fa, non questa ma quella prima l'ho scaldonato E non è stato veramente bello Ero in statale, per fortuna non avevo macchine né davanti né dietro Si è fermata il ruoto dietro Purtroppo è scarburato di moltissimo Quindi ragazzi scrivetemi sotto nei commenti Se secondo voi mi conviene mettere di nuovo a posto questo ciao Spendendo quei 50-60 euro che possono essere Lo facciamo tornare agli antichi splendori Si dovrebbe avere la cinghia del variatore abbastanza strappata Poi vabbè il variatore in sei Traballo perché l'ho aggiunto io Questo era un modello del ciao senza il variatore Quindi ho tagliato la carena a lato E ho messo il variatore con una rettina verde Che è fantastica Ho aggiunto anche questi contachilometri Diciamo che di ripresa ne ha ancora Non ci si ramenta Però dopo un po' che si va via a manetta Praticamente si scarburano Non so come Praticamente si muove la vite del minimo Fa delle robe strane E tutto il complesso Viene fuori che non va più niente Ho una petta Ecco come ora ragazzi guardate Non va più vedete Stiamo in piedi ragazzi Così abbiamo più Agilità Vediamo meglio cosa succede intorno Spero di non prendere dentro la GoPro a qualche albero Aia Qua la strada si fa impervia Oh mio dio ragazzi Dove ci stiamo infilando Come facciamo a uscire Madonna Aia Triuna visiera Questo è un video un po' diverso dal solito Perché vorrei portare più video col ciao Anche perché l'RS è già a buon punto Cioè è una cosa pazzesca La vedete anche voi Non ha bisogno di altri commenti Ma una cosa che volevo fare E anche spendere massimo Fate budget di 100 euro E mettere a posto questo ciao Perché secondo me Sul canale sarebbe bene Sia un 125 Sia un 50 Che possa essere il mio ciao Quindi secondo me Un po' di soldi Una Meno di 100 ragazzi Li potrei spendere per questo Magari cambiamo cinghia Lo ricarburiamo insieme Ci farò un video Tutte cose così ragazzi Mamma mia Mamma mia Quando inizia ad alzarsi Su cazzi ragazzi Tutte minutos Tutte cose ragazzi Tutte cose rara Tutte cose ragazzi Tutte cose ragazzi Sia un bel Musive Tutte cose ragazzi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.